Come si tratta di un rimpasto? Molto più forte dopo aver ottenuto nella legge di bilancio il risultato per cui abbiamo lottato. Oggi Napoli è una delle città più apprezzate nel mondo, però Napoli è una delle città in cui ci sono ancora troppe sofferenze. Per affrontare le sofferenze e risolverle c'è bisogno di una fase nuova che è fatta di amministrazione e di politica. Se la riduciamo solamente al rimpasto vuol dire che non si è compreso di che cosa sto parlando. Sto parlando di qualcosa di molto più forte perché per poter raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di una squadra fortissima. Per potersi preparare a vincere le regionali c'è bisogno di una squadra fortissima. Per provare a rivincere le amministrative senza Luigi De Magistris ci vuole una squadra ancora più forte. Per poi candidarsi a guidare il paese ci vuole una squadra che non ha confini. Tutto questo lo si deve fare con le persone che ci credono. Non pensate che tutti se la sentono di caricarsi un impegno così grande che è fatto di lavoro H24, di coraggio, di amministrazione, di lotta, di connessione con la gente, di forza, di potenza, di salute. Quindi io questa attività sto facendo in questi giorni. Chi se la sente non di arrivare alla fine del mio mandato fra tre anni ma di portare avanti un progetto così ambizioso. È un check. Il check potrebbe portare a cambiare nessuno o potrebbe portare a cambiare 50 persone. È un check serio.